Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Gioke Next Gen Ragazzi siamo nel video random del sabato, questo è il secondo episodio di Noob su Blackpops 3 Ragazzi oggi siamo in un dominio su Breach, la mappa è Breach, si dovrebbe dire così Ragazzi sì, questa serie ho ideato visto che non gioca mai Breach, l'ho chiamata appunto Noob, la serie io su Blackpops 3 Visto che sono appunto un noob totale su questo titolo, non ho mistichezza, non l'ho nascosto Quindi spero che insomma, mi possa piacere questa serie insomma, una serie si che farei fenomeni Invece vedere magari una persona che non gioca mai, cosa riesce a fare Ecco qua, sono morto, ucciso ma sono anche morto E sicuramente per chi non dice, infatti eccolo qua Immaginavo ragazzi Nooo Stiamo toliendo tutte le bandiere, eccolo qua, uno me lo sono ritrovato davanti Sono tutti qua dentro praticamente ragazzi e quindi Eccolo qua, assist Perfetto, presa A No, è subito arrivato uno di loro per ucciderli Ok, eccoti qua, muori E poi ragazzi sono stato, cioè ci siamo appena uccisi No, ma porca troia Eccolo qua, eh, muori, vaffanculo Ok ragazzi No, aveva lo schianto gravitazionale, bastardo Eccoti qua, muori, vaffanculo No Ragazzi non riesco a fare un'uccisione che subito mi uccidono Subito Come provo a uccidere uno? Ce n'è già un altro pronto a filarmi Guardate quello Fermo lì Che camper di merda Sei un camper Muori, camper, muori Sì, qua sta peste, camper Muori No, no, coltella Qua è una sfantura, eh Ecco qua, fuori uno Fuori due E ce n'erano altri ragazzi Piena quella zona È piena Round perso ragazzi Cento a settantanove Ci hanno dominato Dominato Ok ragazzi Intervallo Secondo round Si, ripaffa Ecco qua ragazzi Sono stato deciso Porto Quella Eh muori, vaffanculo Ecco qua Schianto gravitazionale Vaffanculo Eh muori Mi ha dato l'assist E poi sono stato ucciso Ragazzi qui veramente Dì è il clou Quindi si gioca tutto qui Praticamente Eh morite Vaffanculo Ragazzi ho salvato Praticamente tutto In questo caso Ma c'era un altro Però ragazzi Ho salvato tutto Prova a difendere qui Ecco qua Assist Muori Un'altra uccisione Dai ragazzi Dai che possiamo farcela Muori Uno e muori Due Ricomproveriamo A riconquistare subito B No ragazzi Di pochissimo Vediamo se i miei compagni Ce la fanno però Attenzione ragazzi Che la battaglia è più venta Mi hanno ucciso Porta Puttana Ragazzi Continuo a provare Ad andare qui dentro E a recuperare B Ce l'abbiamo fatta Muori Muori Attenzione Ce n'è un altro Attenzione Eh Noob sì Ma non fino a questo punto Noob sì Ragazzi Mi ha provato a fare la kill Da vicino Noob sì Ma non fino a questo punto E abbiamo vinto ragazzi Round Vinto Abbiamo vinto Questo dominio Ce lo siamo portati a casa 200 A 188 Partita Combattutissima Guardate qui Qui si è svolta Praticamente tutta la partita Dentro il punto B Siamo riusciti a vincere Con le unghie E con i denti Io non so che partito Ho fatto Ora lo vedrò Ragazzi Sono arrivato Quarto 20 A 26 Insomma Di nuovo vicino Al podio Per essere un noob Non è niente Niente Male Ragazzi Ci vediamo Con il secondo Dominio Eccoci qui giunti Ragazzi Nel secondo Dominio Di questo episodio Siamo sulla mappa Questa volta Stronghold Vediamoci Vediamo se riusciamo A prenderla Sì Posizione Conquistata Qui hanno sparato Intanto Il mio compagno Eccoti qui Ucciso Da dietro Ragazzi Eccolo qui Non ho nulla da fare Eccolo qua Fuori un altro Fuori via Eccone un altro Fuori Assist Stavolta Magari appunto Difendere B O difendere C Non lo so Per giocare un po' Più di Strategia Nooo L'avevo visto Anch'io ragazzi Non ho parlato Perché mi stavo cercando Di concentrare Eccoti qua Vaffanculo Ucciso Ragazzi Provo a conquistare A Anche se non penso Che non ci sia nessuno Forse si Vediamo Ragazzi da qua Me ne rileva alcuni Da qua altri Eccolo qua Infatti Eccolo qua Comunque Abbiamo dato l'assist Abbiamo C E B Muori Ok Fuori un altro E muori Anche qui Vaffanculo Fuori un altro Muori Muori No ragazzi Poi mi ha ucciso Da dietro Dunque Ecco qua Subito Mi è capitato In bocca Ragazzi Come sono rinato Era già lì Pronto a essere sparato In testa Round vinto Attenzione All'intervallo Siamo 100 A 52 Dobbiamo mantenere Questo ritmo Vediamo La morte finale E' la mia Ragazzi E' la mia E' la mia E' quella Di quando sono rinato Alla testa Appunto Che ho sparato Con la testa Appena rinato Era la mia Che ragazzi Intervallo Ora andiamo Al secondo Alla seconda parte Del match Ucciso Eccoti qua Avevo buttato Un assordente Ma comunque Morto Nooo Stavo scappando Ragazzi Stavo cercando Di scappare No ragazzi Ma come ho fatto A non ucciderlo Ragazzi Dobbiamo fare Io faccio il giro L'arco E cerco Una strada Alternativa Eccoti qua Ucciso Fuori un altro Eh no ragazzi Mi ha basso davanti Non sono riuscito a ucciderlo Ragazzi Mi è passato uno davanti Non sono riuscito a uccidere Eccolo qua Muori E poi vengo ucciso Ragazzi Porca troia E muori Muori va Andiamo a prenderci qui Ecc Muori Nooo E poi sono stato ucciso Ah ragazzi Non ci posso credere Cioè ci stanno Praticamente Recuperando Muori Ucciso Un altro Unita Finalmente Eccolo qua Ucciso Un altro Andiamo a prenderci qui Ora Ci sono alto qui Siamo a 188 Pari Ci hanno tolto Tutto il vantaggio Per l'uomo Nel primo round Presto Accade Per se le persone Escono Ovviamente Nel primo Altri Magari anche Più posti Ho rivaluta La squadra Avversaria Ecco qua Ucciso Un altro Ma ragazzi Sono bravi Ci sono tipo In 3-4 Sono di bandiera Ora E infatti ragazzi Il round L'abbiamo Perso Ribaltato Tutto E abbiamo perso Il round Questa è la morte finale Vedete Sono stati bravi Sicuramente Subentrata Altra gente Brava a giocare E ci hanno sconfitti Io sono arrivato Quarto Nella mia squadra Con 18-30 Fatto abbastanza schifo Comunque Sono arrivato Quarto Ok ragazzi Come sempre Vi invito a lasciare un like Commentare E condividere Questo video Se vi è piaciuto Qui sotto Come sempre Trovate tutti i miei social network Iscrivetevi al canale Se non lo avete Ancora fatto Qui da un giorno di 83 Tutto Ci vediamo Al prossimo episodio Di un new super cops 3 Ciao gamers Ciao gamers !